Ciao a tutti, benvenuti in questo video vacanziero. Sono contenta di portarvi un po' con me in vacanza. Vi faccio vedere le immagini di alcuni posti dove sono stata. Siamo stati in vacanza a Lido di Fermo, nelle Marche, bellissime le Marche sottovalutate. Sono veramente, veramente belle. Siamo stati a Lido di Fermo. In particolare, queste sono le immagini di Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio è molto, molto, molto carino. C'è una spiaggia tutta ciotolata, però è veramente particolare il lungomare, pieno di ristorantini, locali. Molto, molto carino e rilassante. Abbiamo trovato anche dei giorni bellissimi, come vedete. Molto, molto caldi, ma molto, molto belli. Siamo stati veramente super, super bene. Tra l'altro, vedete qualche piccolo scorcio della mia piccola famiglia, le mie due pesti. Si intravede anche mio marito in alcune clip, così vedete un po' di più quello che è la mia vita vera. E' quello che sono io veramente, insomma. Ecco, mi fa piacere portarvi un po' con me. Questa è la mia piccola baby, io l'adoro. In questo video, praticamente, in questo spezzone del video lei parlava da sola. Non ho potuto non filmarla e lasciarvene un pezzettino da guardare. I bimbi piccoli sono veramente bellissimi. Dobbiamo imparare molto, molto da loro e dal loro modo di fare. Questa è la cena che abbiamo fatto, il pranzo, scusate, non la cena, che abbiamo fatto portore canati. Siamo stati in un ristorantino sul mare, siamo stati benissimo, abbiamo mangiato veramente, veramente bene. Grigliata di pesce, vedete anche, intravedete anche il mio cane. Grigliata di pesce e quant'altro. Questo è sempre il portore canati, abbiamo fatto due passi tra i negozi. Vabbè, sapete che lo shopping per me è immancabile. Poi vedete la piazza di portore canati, eccola qua. Bellissima, anche questa è molto bella. Qui era un giorno un pochino più nuvoloso, però era veramente, veramente caldo. Sarebbe stato meglio in spiaggia, ma abbiamo deciso di fare un giro per la città, per non fare sempre, sempre, sempre mare. Questo invece è Civitanova Marche, molto, molto carina, molto bella, veramente, bellissima. È già una cittadina, ma, insomma, è veramente molto bella. Guardate che bella la fontana, tra l'altro, molto, molto rilassante. Qui vedete le mie due birbe, tra poco, eccoli. E' lo spezzone che voi non vedete dopo della clip, quando mio figlio cerca di spingerla un pochino più veloce. Questa è la spiaggia dove stavamo quasi ogni giorno. È l'ido di Casa Bianca, al lido di Fermo, una spiaggia libera. Diciamo che le marche sono bellissime, ma se avete un cane è un po' difficile trovare una spiaggia dove potete portarlo. In molte rischiate una multa, e questa era una delle spiagge più tranquille in cui potevamo portarlo. Infatti, vedete, non c'è quasi nessuno. Questa è una mattinata, durante una mattinata, ed era veramente bello, perché il primo ombrellone era magari a 4-5 metri da noi. Il mio cagnone, io in costume. E poi, ahimè, questa è la clip in cui andiamo via, in cui salutiamo le vacanze, insomma il mood da vacanza, eccetera, eccetera, eccetera. Però, devo dire che, a parte che mia figlia si è ammalata gli ultimi due giorni, ma siamo stati benissimo. Ovviamente, con i bimbi piccoli c'è sempre da aspettarselo, però bisogna prendere sempre tutto positivamente. Io vi saluto, prima che il video finisca. Vi mando il mio solito mega bacione. Non perdetevi i prossimi video che arriveranno. Alla prossima! Un bacione grandissimo! Ciao ciao!